C'è chi dice che la Blue Mouse, che da casa indipendente è diventata qualcosa a metà strada tra indie e commerciale, stia producendo troppi film, rischiando quindi di saturare il mercato di genere e non riuscendo a proporre titoli accattivanti e davvero diversificati. Ma forse i numeri al box office mondiale danno torto a queste voci, e sicuramente la linea editoriale dell'azienda, che è riuscita a imporsi nel panorama cinematografico attuale, incede sempre più velocemente. L'ultimo arrivato in casa Blue Mouse è Imaginary, e dopo le bambole assassine, adesso tocca quindi a un bello orsacchiotto di peluche spaventarci. Dai produttori di Five Nights at Freddy's e Megan, la trama di Imaginary segue il copione degli horror. La protagonista Jessica si trasferisce infatti nella casa della propria infanzia, dalla quale era stata strappata dopo la morte prematura della madre e l'esaurimento nervoso del padre, ora ricoverato in una casa di cura. Con lei troviamo il marito Max insieme alle figlie Taylor e Alice, che la vedono ancora come la matregna arrivata in famiglia per sostituire la madre naturale, anche lei instabile mentalmente. Così, mentre provano a ricominciare e costruirsi un proprio nido, Alice, che è un nome non proprio scelto a caso, trova un peluche di nome Teddy in cantina, e da quel momento non riesce più a separarsene. Ma se i genitori pensano che inizialmente sia solo una fase dovuta anche al trauma della madre biologica ricoverata, presto avvenimenti sinistri iniziano ad accadere nella classica grande casa americana fatta di pavimenti di legno armati e sotto scala. E così Jessica comincia a porsi più di qualche domanda anche sul proprio passato. Il primo aspetto per cui Imaginary si pone tra gli ultimi horror visti al cinema è sicuramente un colpo di scena riuscito e ben assestato a metà della pellicola, che dà una lettura interessante e significativa al tema affrontato dal film, ovvero quello degli amici immaginari, del nostro rapporto con essi e della loro influenza sulla nostra vita anche da adulti. Al centro del film, infatti, accanto al tema della maternità, c'è proprio il rapporto con la nostra infanzia, tanto che la professione della protagonista è disegnatrice di libri per bambini. E la recitazione degli attori e il calore familiare che il quartetto prova a mettere in scena arriva agli spettatori, anche se tende leggermente all'overacting da parte della quasi debuttante Piper Brown e della veterana Betty Buckley. Il problema, però, è ciò che accade dopo, ovvero nella seconda metà del film. La creatività del cast tecnico parte infatti a briglia sciolta, ma senza un'apparente idea di fondo solida, che è sempre necessaria per far capire al pubblico le proprie intenzioni. Il regista Jeff Vladov, già dietro l'horror Blue Mouse, Obligo o Verità, alcuni episodi di Bates Motel e il remake cinematografico di Fantasy Island, ha dato adito insieme ai cosceneggiatori Greg Urb e Jason Oremland alla più sfrenata fantasia per costruire e sviluppare quell'universo dei sogni o degli incubi, ma il risultato, che predilige il set dal vivo alla CGI, risulta vittima del budget limitato anche se si fa forza con la buona fotografia. Tuttavia, apprezziamo la costruzione di quell'universo in cui tutto può diventare sia sogno quanto incubo, nemico o amico immaginario compreso. La rappresentazione poi dello stesso Teddy colpisce in positivo e porta qualcosa di nuovo nel panorama horror contemporaneo, e il regista non eccede mai nei jumpscare, e c'è una certa eleganza nella costruzione della tensione narrativa, anche se ad un certo punto, sempre per l'immaginazione senza freni dietro le quinte, ci troviamo di fronte a uno sviluppo più fantasy che horrorifico, lasciando quindi perplessi e puntando al classico spiegone da parte dei personaggi. Il risultato? Beh, un finale abbastanza scontato, ma che ha il merito comunque di rispondere a tutte le domande aperte nel corso della pellicola. E voi cosa ne pensate? Vi ha convinto Imaginary? Fatecelo sapere nei commenti! Grazie a tutti!